Un pieno di energia per gli azzurri è arrivato dai circa 600 tifosi che questa mattina hanno assistito al primo allenamento dei ragazzi di Conte al centro sportivo del Montpellier Ero, tra di loro molti appartenenti alla importante comunità italiana presente in città. Siamo tantissimi qui a Montpellier, c'è una comunità di studenti e di gente che lavora e per noi è un onore e un piacere vederli allenarsi qui e seguirli anche in tutta la Francia. Tra i più acclamati Bonucci, De Rossi, Chiellini Insigne e soprattutto il Capitano. Il tuo idolo? Per il momento Buffon. No Buffon, certo Buffon. Sotto il sole, con una temperatura di 27 gradi mitigata da una lieve brezza, gli azzurri non hanno lesinato ceni di risposta alle grida dei tifosi. Grande entusiasmo durante la partitella, che ha visto andare in gol Immobile, autore di una doppietta, Zazza, Insigne e Bernardeschi. A fine seduta, gli azzurri hanno regalato palloni, dispensato autografi e posato per i selfie. Il clima ottimale per iniziare Euro 2016, con i tifosi che hanno chiesto alla squadra massimo impegno e voglia di sognare. Il tuo augurio per la squadra? Passare il girone, fare bella figura, essere al 100% e dare il massimo. Spero lontanissimo. Minimo semifinale, poi se c'è una bella finale sarei proprio orgoglioso. Grazie.